Un omaggio al più celebre fra gli scrittori contemporanei lecchesi da parte dell'amministrazione comunale di Confcommercio, Andrea Vitali con un'iniziativa senza precedenti nella città di Lecco. Aspettiamo tutti i cittadini venerdì 6 settembre alle ore 18, partiamo qui dagli spazi della nostra biblioteca dove Andrea Vitali ci guiderà in un percorso di letture inedite, di suoi racconti inediti. Attraverseremo proprio il cuore della città per cui la biblioteca civica andremo successivamente in un luogo centralissimo messo a disposizione da Confcommercio per poi concludere l'appuntamento a Palazzo delle Paure. Un pomeriggio diverso che vuole promuovere le nuove attività e i nuovi servizi della biblioteca dove avremo modo di ospitare qui a Lecco il grandissimo scrittore Andrea Vitali e di sentire direttamente dalla sua voce alcuni suoi racconti inediti. Nelle scorse settimane è stato deliberato il nuovo orario presentato già in una conferenza stampa, il nuovo orario dei nuovi servizi della biblioteca che sarà aperta ininterrottamente da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 18.30 con un servizio continuato per tutti i nostri servizi, ragazzi, periodici, settori adulti. A fianco a questo partiamo proprio qualche giorno dopo il 6 settembre con l'evento di Andrea Vitali e altri appuntamenti che ci attenderanno durante l'anno per volontà e volere dell'amministrazione di tutto lo staff della biblioteca di promuovere un piccolo percorso culturale di incontri anche qui in biblioteca.